cerchiamo di capire dove siamo e dove dove vengono il è è è il è le granate mi serve di rinferirle per dopo se l'informazione non lo vediamo ci stiamo un po' freschi ecco che ha detto, ha spiegato una vaffanculo vaffanculo non lo vediamo 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 è il suo non lo vediamo non lo vediamo come è in serie di simulazioni? è full no sono praticamente full è purca di via è proprio qua qui Veloci SWAT Veloci SWAT Rapidi proprio Come sai voi Ma qua ci vado Eh sì Perca boia Se ne è andato l'altro test Bene Io sono stramato E' uccidere dopo il resto E' uccidere dopo il resto Però L'importante è l'obiettivo Stiamo sull'obiettivo Siamo Però non c'è Granati messi di voi Pazzo No donno dai Per quante uccidi Ci sono sempre migliori No 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 Eccolo lì Ci siamo morti Eccolo 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 lì Eccolo lì Eccolo lì